La Metro Golden Players presenta... ...dato il ministero, per me non è un mistero e vorrei farlo sapere. Diciamo che, come schiava il padrone della televisione, voleva proprio te. Ma tu lo sai che è caduto sto governo, per te sarà un inferno, lavoro non ce n'è. Io so' un segreto su di te, Maria Stella, Maria Stella. Io so' un segreto su di te, tu in pacella avevi tre. Con lei eravamo studenti insieme, quindi mi ricordo di Maria Stella molto bene. Cioè devo essere sincera, non particolarmente brillante negli studi. Si sa, si sa che la stampa ti si informa, la chiamano riforma, i servietti la che. Però io so che nemmeno tu l'hai scritta e forse neanche letta che colpa puoi aver. La sola colpa, se vuoi che te la dica, non eri così fica per stare alla tv. Sei troppo anziana per fare la velina e comunque una vetrina volevi avere tu. E la P2 sapeva che l'istruzione era un problema. Ed hanno scelto proprio te, che in pacella avevi tre. Ho deciso di aprire un canale su YouTube perché intendo confrontarmi con voi sulla scuola e sull'università. Per massacrare la scuola e l'istruzione con grande abnegazione ti sei impegnata, sai. Ma io lo so, dei precari tu hai paura, la piazza ti assicura che te ne pentirai. Tu hai paura e sai perché. Maria Stella, Maria Stella, saranno cazzi anche per te. Cerca casa da mame. Tu hai paura e sai perché. Maria Stella, Maria Stella, saranno cazzi anche per te. Cerca casa da mame. Grazie. 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 Grazie.